Sono 100 i monopattini a noleggio fermi in attesa dell'autorizzazione di una delibera di giunta. Un grave danno che ha colpito la ditta che gestisce l'attività, la Ugolini Motors di Borgo San Lorenzo. Il titolare, Leonardo Ugolini, ha deciso di raccogliere le firme degli abbonati al servizio per presentarsi in comune forti del sostegno di 500-600 persone. Leonardo Ugolini ha voluto sottolineare che la sua attività ha tutte le autorizzazioni necessarie sui mezzi omologazione, assicurazione e limitatori di velocità e che dal SUAP gli avevano assicurato che per iniziare il noleggio sarebbe bastato una dichiarazione di inizio attività. Ma la questione non sarebbe così semplice, come spiega l'assessore al turismo Remo Santini. Per fare un noleggio di monopattini a Lucca, come del resto in qualsiasi altra città, serve una delibera di giunta che autorizza. Questa delibera non c'è ancora, noi affronteremo il problema probabilmente all'inizio dell'anno nuovo e tutti coloro che noleggiano monopattini quindi non sono in regola. Abbiamo cercato di capire qual era la ditta che poi si è palesata attraverso le interviste sui giornali e quindi abbiamo scritto delle lettere per dirgli di cessare il servizio perché appunto era un servizio in questo momento abusivo. Nel frattempo dopo la prima lettera la persona dell'azienda ha presentato la scia al comune, quindi evidentemente in ritardo, c'è stata una seconda lettera in cui è stato risposto dagli uffici che appunto la scia non basta di per sé ma serve una delibera di giunta che autorizza e poi attraverso un controllo dei vigili urbani svolto proprio in questi giorni la ditta è stata invitata a sospendere l'attività e mi risulta che questo sia diciamo avvenuto. C'è stato quindi un po' di confusione da parte del privato, da parte nostra ci impegniamo a fare un ragionamento per regolare la materia, però si tratta di capire se vogliamo che Lucca venga invasa dai monopattini che in molte situazioni provocano anche dei rischi oppure no. I nostri tempi sono questi, noi potremmo anche decidere di rimandare una riflessione sine die e prenderci dei mesi di tempo. Ripeto, ci impegniamo a farlo agli inizi dell'anno ma il danno economico l'ha provocato a se stesso chi è partito senza autorizzazioni.